Oltre 300 persone hanno affollato la partenza della seconda cinghialata Memorial Manuele Iacconi, escursione per mountain bike organizzata dal gruppo dei cinghiali della Versilia e da Toscana Trax ASD. Una giornata di feste e di sport a cui ha partecipato anche il campione Alessandro Petacchi, che insieme a centinaia di appassionati della mountain bike ha percorso i 38 chilometri di tracciato su un dislivello di ben 1000 metri. Strade, sentieri, per buona parte sterrati, tra gli scenari più suggestivi del territorio, dalla spettacolare serpentina iniziale realizzata all'interno di un campo abbandonato, fino alle strade del Magno Vecchio, Gualdo, Montigiano, Corsanico e l'arrivo a Piano di Momio in piazza Martiri della Sassaia. È qualcosa di diverso dalla bici da strada, mi è sempre piaciuta la mountain bike. Conosco il percorso perché abito più vicino, qualche volta l'ho fatto. Niente, auguro a tutti un buon divertimento, l'ho visto stamattina, ci sono molte persone da fuori. Questo, come dire, come amministrazione comunale ci fa enormemente piacere, perché poi l'aspetto turistico, insomma, sono cose su cui noi puntiamo molto e vogliamo, insomma, in qualche modo cercare di valorizzarle il più possibile. Prima di dare il via ufficiale alla pedalata, gli amici e la famiglia di Emanuele Iacconi, insieme all'amministrazione comunale di Massarosa, hanno portato un mazzo di fiori al cimitero per ricordare il ragazzo, ucciso a colpi di casco la notte di Halloween del 2014. Un evento non competitivo, nato dall'idea di un gruppo di amici, è cresciuto grazie alla passione e all'amore per la mountain bike e per il proprio territorio. Non pensavo di raggiungere una quantità di persone così, guarda, veramente. Io e i miei cinghiali ci abbiamo fatto, diciamo, a vedere tutta questa gente, è uno spettacolo, uno spettacolo veramente troppo bello, troppo. Ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato tre mesi e si sperava anche nel tempo.